Inaugurato l'anno accademico 2014-2015 dell'Università Salesiana a Torino, quest'anno appuntamento particolarmente significativo per la congregazione e la famiglia salesiana che celebrano i 200 anni della nascita del fondatore San Giovanni Bosco dopo la prolusione del cardinale Tarcisio Bertone dal titolo Le sfide per l'Università Cattolica, una passione che si rinnova la mattinata e proseguita con la presentazione delle attività accademiche.